a proposito della luce che entra dal foro sul vertice del pantheon c'è un'ultima scoperta dottoressa ciao roberto tutti i giorni a mezzogiorno il sole entra dall'oculo della cupola e crea un cerchio di luce verso il portale e quando è il 6 7 di aprile oppure il 4 5 6 di settembre ricalca perfettamente l'arco questo succede perché l'oculo della cupola è largo esattamente nove metri come l'arco in muratura quindi questo presuppone anche una capacità costruttiva che lascia a bocca aperta ancora adesso chi sarebbe in grado con i mezzi che avevano allora di creare qualche cosa di questo tipo e questo è un modo di affermare la divinità dell'imperatore quindi il suo diritto ad avere il potere